Signor Trump, lei sarà il nuovo presidente di Firenze, cosa sarà il cambiamento a Firenze una volta che lei prenderà il comando appunto della città fiorentina e quello che pensano i suoi concittadini fiorentini? Allora sarà vietato chiedere a Firenze un panino con la maionese e il lampredotto perché scatta anche le manette e l'arresto, poi la bistecca alla fiorentina sarà fatta solamente ai sangue, sarà vietato chiedere la cotta bene o cotta molto, o cotta media, non sono delle due, sarà solamente ai sangue, poi scatta l'arresto, bombarderemo qua Rata tanto così per fare qualcosa, per provare due bombe e due raudi diciamo, Poi costruiremo un muro tra Firenze e Prato in modo che i pratesi per venire a Firenze dovranno pagare una dogana o un biglietto se ci vogliono venire, se no stanno a casa loro, tanto per iniziare Proveremo anche successivamente a fare uno scambio culturale con Pistoia ma solamente se i Pistoiesi ci regalano un po' di piante perché ci manca un po' di piante a Firenze, ci ho da rifare le acine di tavola e allora io aspetto e dopo bombardo, non so se mi spiego